Come ci si deve porre dinanzi alle varie religioni? Commento. Come ad un cammino evolutivo, che il ricercatore spirituale effettua per capire, se non ancora per comprendere, perché egli è incarnato in terra così come è. Attraverso le risposte che ciascuna religione dà alle sue domande, lo spiritualista approfondisce i vari aspetti dell'esistere suo e dell'umanità incarnata e disincarnata a cui appartiene. Il termine probabile di questa ricerca che dura più vite sarà l'adesione alla religione della coscienza.